Ciao, sono Ciro Dalletterisi e vi voglio presentare tutto il mio mondo. Seguitemi! Ci troviamo in Chioma Accademia e il percorso comincia da qui. È un'accademia pensata per formare solo acconciatori. Da questa accademia sono venuti fuori dei bravi professionisti che oggi conducono a un proprio salone o lavorano presso salone di rilievo. Il mio obiettivo è quello di trasferire tutte le mie competenze a dei ragazzi che hanno voglia di intraprendere questa strada e scelgono Chioma Accademia. Il nostro percorso continua con la Work Academy, un progetto pensato per tutti i ragazzi che hanno voglia di approfondire i propri studi in un vero e proprio negozio con veri clienti. Praticamente entrare nel mondo del lavoro da subito. Infine c'è il mio negozio Ciro Dalletterisi a San Zerino, un negozio che vanda una vasta clientela. oggi ancora di più grazie al progetto Work Academy che dà possibilità a tante donne di farsi bella a costi accessibili. Io sono sempre qui, vi aspetto!